Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, questo è un video un po' speciale, un po' diverso dal solito e ovviamente voglio dedicare questo video al mio, diciamo, amico peloso, che ovviamente è Fiocco. Per chi mi segue su Instagram ovviamente sa cos'è successo, però lo posso dire anche qua per chi non ha Instagram, praticamente il 15 di dicembre, una settimana prima di Natale, Fiocco mi ha lasciato. E' stato, diciamo, allora non ho registrato, non ho montato in questi mesi, infatti c'è in questi mesi, in mese di dicembre, perché diciamo che quello che era successo è stata questa cosa qua. Ero, diciamo, un po' in un... non so come spiegarlo, non ero tanto, diciamo, attiva a fare tanti video, tanto meno a registrare i video. E sinceramente non me la sentivo di registrare i video in quei mesi, cioè, amo, volevo dire in quelle settimane, non capisco perché devo dire sempre i mesi. Comunque, in quella settimana di... in mese di dicembre, tanto meno in queste due settimane che sono... sono passate di gennaio. E questo è un motivo. Per cui questo video lo dedico a lui, metterò un po' di video, un po' di foto che ho fatto in questi anni. Lui ha... ha... praticamente aveva dieci anni. Quest'anno doveva fare... no, nove anni, scusate. Aveva nove anni, quest'anno doveva fare dieci anni. Io so che i conigli più o meno durano dieci anni, massimo. Per cui già... non dico che... che è durato... tanto. Durava... diciamo un annetto, ancora un po', era meglio, però vabbè. Mi ha lasciato proprio quando io, appunto, sono tornata dal lavoro. La sera l'ho trovato morto giù, per terra. E io lì, diciamo, cioè, stavo proprio male. Per cui è stato un colpo. Perché il giorno prima lui stava bene, mangiava, eccetera. Il giorno dopo che si sono andata a lavorare e sono ritornata a casa, l'ho proprio trovato un fin di vita, in poche parole. Per cui, come ho fatto con Candy, vorrei dedicare questo video a... Ovviamente è lui. E niente, vi lascio il video. Buona visione. E... Niente. Adesso lui sarà con Candy. I miei, diciamo, due animali proprio... Che volevo tanto bene. Alla fine, niente. Detto questo, buona misura e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Per fare una foto in... In due? Girati. Girati. Bellissimo. Mettiti più vicino. Mettiti più vicino. Dai, Fiocco. Mettiti più vicino. No. Senti. Aia. Aia. Grazie a tutti. E' geloso. Spoco quasi tutto spoco. Spoco quasi tutto spoco. Spoco quasi tutto spoco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.